Aiuti e fondi ai proprietari degli uliveti che vorranno eradicare autonomamente gli alberi colpiti dal virus della xylella fastidiosa in Salento. E questa è la strategia scelta dal commissario straordinario Giuseppe Silletti per evitare scontri e provare a mediare tra le parti in causa. Le eradicazioni sono iniziate a Doria, poi seguiranno quelle di Veglie. La Commissione europea ha valutato le procedure messe in atto dall'Italia, scongiurando l'infrazione che pendeva come una spada di Damocle, sollecitando comunque in tempi brevi l'attuazione delle ulteriori e più radicali misure. Sono 16 comuni interessati, la maggiore concentrazione di alberi malati si trova nell'agro di Veglie, laddove da oltre un mese gli ambientalisti si sono riuniti in un presidio permanente e dove le ruspe non arriveranno a sorpresa, così come è successo martedì scorso a Doria. L'indennizzo sarà quantificato in base a modalità che il commissario deve ancora stabilire e si aggiungerà al risarcimento delle spese di eradicazione già previsto nel precedente piano Silletti.